Tutti i personaggi dello spettacolo che hanno rivolto una dedica di cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore ed allenatore. La notizia della scomparsa di Gianluca Vialli ha colpito nel cuore tutti, dagli sportivi ai tifosi, dai politici agli esponenti del mondo dello spettacolo. Sono tantissimi, infatti, i VIP che hanno dedicato un attimo del loro tempo al ricordo dell'ex calciatore ed allenatore che ha lasciato un segno importantissimo nel mondo del calcio e non solo uomo di sport ma anche di grande sensibilità. Da quando era stato colpito dal tumore, Gianluca ha fatto di tutto per non mollare la presa ed essere un esempio per la sua famiglia e per tutti quelli che come lui si trovavano ad affrontare una malattia atroce come il cancro. sconfitto, ma solo fisicamente, Gianluca è rimasto nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto e che, con lui, hanno avuto modo di condividere un pezzetto della loro vita. Sono tantissimi, infatti, i VIP che hanno deciso di ricordarlo, attraverso i social, con una dedica speciale. Non dimenticheremo i tuoi gol. Le tue leggendarie rovesciate. La gioia e l'emozione che hai regalato all'intera nazione in quell'abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell'europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l'uomo. Sono le parole di Giorgia Meloni che ha voluto mostrare subito la sua vicinanza alla famiglia del cosiddetto re leone scomparso. Tra i primi a commentare la morte di Vialli c'è stato anche Fedez, che con l'ex calciatore ha condiviso lo stesso dramma della malattia. Commosso e profondamente toccato da questa scomparsa, il rapper milanese ha voluto dare a Vialli un ultimo saluto con un video dove ricorda quanto gli sia stato vicino durante la malattia e quanto sia stato importante per lui il suo conforto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.